Action! Io di solito qua ci vengo con qualche bel marinaio. Le donne proprio non ti piacciono? No, altro che il mio sogno sarebbe essere proprio come a te. Sai che è successo con gli uomini? Mamma mia! Ci avrei tutti i marinai del Golfo di Napoli appresso a me! Che soddisfazione! Dopo cena, mi porti a bere un limoncello a bar di Cisana? Sì, va bene, però guarda te lo dico, il limoncello picchi in testa, eh! Non c'è problema, sto con te e te mica mi salterai addosso. E certamente, povero mattarello mio, come sei caduto in basso! Mattarello! Mattarello, pazzarello, pazzarello, sai, uè, uè, uè! Carino! Eh, carino, uè, uè!